Laddove prima si sentivano le risate e le voci dei bambini, oggi è il suono di vetri rottiche che è già nella struttura abbandonata. Un tempo asilo biondo, poi divenuto centro vaccinale, adesso luogo desolato e fatiscente. Tanti anni fa questo fabbricato ospitava tantissimi bambini, infatti era sia un asilo nido ma anche un centro vaccinale. Purtroppo da tantissimi anni è stato lasciato al degrado e quindi si trova in una situazione davvero pessima. Come potete vedere infatti alle mie spalle, la struttura ormai è arrivata al capolinea dove non c'è più nulla rimasto di quello che era originalmente. Speriamo che comunque attivandoci insieme al mio collega Tonino Rendazzo, che il sindaco possa prendere cura di questa struttura fondamentale per la collettività in quanto darebbe un ulteriore servizio. Infatti abbiamo iniziato ad avviare tutto l'iter affinché possa essere ripresa e comunque possa essere restituita a chi realmente ne deve usufruire. Ci troviamo a Palermo vicino all'ospedale civico a denunciare lo stato di degrado in cui versa una struttura invasa da rifiuti, calcinacci, feci umane, un fabbricato lasciato in balia di vandali che in maniera agevole accedono poiché i cancelli sono aperti o comunque ne permettono l'accesso. Abbandono, degrado e incuria, ma cosa si potrebbe fare per riqualificare questo posto? Sì, c'è un progetto per rifunzionalizzare questo luogo e renderlo un asilo comunale, quindi per riconsegnarlo alla cittadinanza. Questo progetto ha un finanziamento con i fondi del PNRR e questo finanziamento però rischia di andare perduto. Sono state avviate delle interlocuzioni con il governo centrale ma c'è un diniego per poter proseguire con le scadenze. Quindi quello che chiediamo al sindaco è di farsi promotore di alcune interlocuzioni con il governo centrale per salvare questo finanziamento o individuare altre risorse per riconsegnare la struttura dell'ex asilo biondo alla collettività. Voi la scorsa settimana avete fatto già un sopralluogo? Sì, abbiamo fatto dei sopralluoghi con i tecnici del comune, la situazione è davvero preoccupante. All'interno hanno anche appiccato un incendio qualche mese fa, una struttura chiusa da molti anni dove succede di tutto. Abbiamo visto anche, oltre ai rifiuti abbandonati, anche feci umani, siringhe e la struttura che ogni giorno rischia sempre più un peggioramento.